Il piccolo comune di Monvalle si trova sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, nell'area prealpina del Medio Verbano ed è posizionato in linea d'aria a circa 17 km a nord-ovest di Varese. Una particolarità è la presenza del fiume Monvallina, parzialmente navigabile, che attraversa il territorio comunale per circa 5 km e che nasce a Orino con il nome Viganella. È un borgo storico. La chiesetta di Turro, frazione di Monvalle, è infatti antichissima, anche se non si hanno notizie della costruzione. Doveva essere una modesta cappella, ingrandita nel 1892, restaurata completamente nel 1932. È dedicata ai Santi Nazaro e Cerso Martiri e se ne celebra la festa al 28 di luglio. Monvalle, oggi, è ricercata come villeggiatura tranquilla. Ha un magnifico e ben attrezzato lido, molto frequentato dagli amanti dello sport lacuale ed anche da stranieri, un campeggio, oltre ad avere la spiaggia del Curé, ed il porto naturale del cantone. Un anno molto speciale è il 2000, perché si concretizza un lungo sogno, ovvero l'associazione Velica Monvalle, collocata nell'insenatura Il Cantone, che ospita esclusivamente barche a vela. La sua costruzione si inserisce perfettamente nel contesto paesaggistico. Una delle peculiarità del territorio comunale è quello di accogliere area protezione speciale per la biodiversità, l'area dei canneti del Lago Maggiore e la palude Monvallina per un'estensione di circa 7 ettari. La Proloco di Monvalle opera in paese dal 1933, anno in cui venne fondata da un consiglio che vedeva come presidente il Cavaliere Vittorio Bardelli. Negli anni, la Proloco ha realizzato molteplici iniziative e attività di sostegno nel corso dei mesi, scandendo alcuni piacevoli momenti della vita comunitaria del paese. Attualmente, l'associazione conta circa 400 soci. La Sagra dell'Alborella, tra tutte le iniziative, è quella che ci caratterizza maggiormente. Sicuramente è l'evento di punta dell'associazione. Si svolge sulle sponde del Lago Maggiore ed è un appuntamento ormai tradizionale e conosciuto da molti in tutto il territorio circostante. Dai sei rioni che compongono il paese, Acquedotto, Due Mulini, Micina, Nuova Cappella, Ronco e Vaticano, è nato il Palio Monvallese, che consiste in una settimana di sport, cultura e giochi ripescati dal passato, per esempio lancio dell'uovo e della balla di fieno. Grazie per la visione!